A me la cocaina me trasformava, io nasco come un violento, io ero un violento fino a qualche anno fa perché appunto avevo questo gruppo Oh my goodness, you all right? You can't get that way, come on, come on Ready? Ready? Look at bud, look how easy it is Please don't bite me, please don't, don't you fucking Oh my god You stay back until Charlie gets in Oh, George What? oh 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 toby oh 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 are you kidding me come on oh 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 Sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. All right, let me get a smell. Ready? One, two, three, cheese. 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 è over stimulated um literally humping everyone um and a lot of the dogs did not like it he is social but he's more concerned about humping everybody than he is playing again use your body weight to push the dough into itself you might have to add a bit of flour until the dough is easier to work with but don't overdo it or you'll throw off the balance of flour yeast salt and water repeat this kneading action turning kneading is 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, 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 non è vero. Non è vero. Sì, non è vero. Non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. 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 Non è vero.